Allora, partiamo dalla dottoressa Francesca Maria Montemagno, founder and CEO di Smartive, Carlo Rinaldi, CMO di Glicon e Federica Pazzini, CEO and co-founder di Hacking Talents, società Benefit. Prego, accomodatevi pure. Bene, allora, anche questa è una tavola rotonda dal titolo impegnativo HR Transformation, le sfide per i professionisti delle risorse umane e abbiamo detto che questo è un periodo particolarmente sfidante per chi opera in questo settore. Tra le sfide che abbiamo individuato ci sono naturalmente quelle della attraction e della retention, cioè della capacità di attrarre ma anche di trattenere i talenti e talento sarà sicuramente una delle parole chiave di questa tavola rotonda, ma per far emergere il talento delle persone che lavorano all'interno delle organizzazioni un fattore abilitante è assolutamente il digitale. Anche questa, ecco, la teniamo come parola chiave. Abbiamo parlato tantissimo di trasformazione tecnologica, di trasformazione digitale, anche se ormai dobbiamo un po' allargare il campo, lo faremo anche con il dottor Rinaldi, al grande tema dell'intelligenza artificiale. È una vera e propria rivoluzione quella che ci aspetta destinata a trasformare per sempre le dinamiche del mondo del lavoro. Ma ecco, prima di arrivare appunto al ruolo dell'intelligenza artificiale, all'utilizzo anche consapevole dell'intelligenza artificiale nel mondo HR. Partiamo ecco, proprio dalla componente del digitale come sostegno, come aiuto e al cambiamento e all'acquisizione di nuove conoscenze. E lo facciamo con la dottoressa Francesca Maria Montemagno che è CEO e co-founder di Smartive, che è una full service company che si occupa proprio di supportare le persone nel loro percorso verso il cambiamento, ma inoltre anche si occupa di orientare le persone verso il digitale, a pensare digitale per poi agire digitale. E una parola chiave da cui dobbiamo partire è quella della misurazione, il misurare. Ed è una parola che noi di solita siamo portati ad associare insomma a qualcosa di tecnico, di quasi scientifico e invece Smartive fa un discorso un po' diciamo originale, cioè la applica proprio alle persone, ai laboratori. Ecco, ci vuole spiegare innanzitutto in cosa consiste la misurazione e perché è importante misurare. Sì, innanzitutto buongiorno, piacevole ritrovarsi qui sia con Carlo che con Federica, visto che sono percorsi che si incrociano e tornano a incrociarsi. La misurazione, sì, per noi Smartive è un chiodo fisso, nel senso per noi è fondamentale sostenere e supportare la trasformazione digitale misurando ciò che facciamo e ciò che produciamo attraverso il nostro intervento all'interno delle organizzazioni. Per noi partiamo dal presupposto che la misurazione è nella storia dell'essere umano un fattore cruciale, nel senso che se guardiamo a quella che è l'evoluzione del mondo animale vegetale passa attraverso delle misurazioni. C'è un saggio del professor Martin che ci illustra le sette misurazioni del mondo, partendo dal secondo, quindi il tempo, lo spazio, fino ad arrivare al capitolo sulla candela. Fondamentalmente per noi la misurazione è una vera e propria lingua franca, è quella lingua che a prescindere dai background, dalle industrie, da tutte le caratterizzazioni che possiamo sentire addosso a quella che ciascuno per la propria organizzazione la vede come unica e irripetibile, fondamentalmente è questa lingua franca che ci permette di capire quanto è distante la nostra organizzazione dall'essere a prova di futuro. Ed è per questo motivo che applichiamo il concetto di misurazione alle persone, quindi come momento di consapevolezza e lo poniamo alla base non solo della nostra metodologia a supporto del cambiamento, quindi attualizzando i principi e gli approcci di change management, ma lo facciamo anche attraverso quello che è il nostro tool di People Analytics. Ecco, la misurazione appunto insomma nasce con l'uomo, possiamo dire così, ha una radice veramente lontana come ha sottolineato, ma voglio far intervenire subito anche la dottoressa Pasini per chiederle si può misurare anche il talento? Perché visto insomma che la sua organizzazione si chiama Hacking Talents e mi piace molto il claim che compare proprio in apertura, in landing page, cioè hacker il talento delle tue persone, ma come si fa a misurare quali strumenti hanno a disposizione le aziende per misurare il talento e quindi il potenziale all'interno delle organizzazioni? Ecco, infatti Hacking Talents è una piattaforma digitale che vuol far emergere dalle persone i propri talenti, tant'è che abbiamo chiamato Hacking Talents che tecnicamente in inglese non è esattamente, diciamo abbiamo hackerato anche questo sistema e misurando per le aziende l'impatto di quanto il potenziale delle persone possa fare nella produttività aziendale. Non è, diciamo che attorno al concetto di talento c'è un, diciamo ci sono tantissimi punti di vista diversi, noi siamo partiti, io sono stata talento come è così definito in due multinazionali e mi sono resa conto che tanti strumenti che mi venivano dati durante questi percorsi erano strumenti che in realtà avrebbero fatto bene a tutta la popolazione aziendale tanto più ai colleghi che magari non erano lì in quel pool di persone e quindi ho portato questa, diciamo questi strumenti in maniera allargata facendo leva proprio sulla tecnologia ma come si misura, come si misura l'impatto di questi, della messa a terra di questi talenti secondo me si deve misurare con la produttività aziendale, cioè oggi in Italia abbiamo un problema enorme secondo me di costruzione di valore in maniera sistemica, ne parlavamo prima ma non siamo abituati a misurare, ma non siamo neanche abituati a lavorare sul processo e creare dei processi per cui si tira fuori dalle persone sia quello che è il proprio impatto su di sé, che è quello che è il proprio impatto nella loro società allenando secondo i nostri strumenti quelle che sono intelligenza emotiva e sociale, ecco che allora vengono fuori insights, trend e si può arrivare a un impatto che può arrivare a impattare la produttività. Ecco questo, potremmo definire il digitale proprio come uno strumento che abilita, che aiuta insomma ad abilitare il talento e chiedo al dottor Rinaldi se possiamo fare lo stesso discorso anche per l'intelligenza artificiale e le chiedo, cioè mi spiego insomma il perché di questa domanda, nel senso che sull'intelligenza artificiale ovviamente si è scatenato un grande dibattito ormai dal novembre del 2022 da quando la famosa chat GPT che è entrata insomma agli onori della cronaca è entrata nella nostra quotidianità e quindi si è scatenato il dibattito proprio su non solo le opportunità ma anche i rischi dell'intelligenza artificiale sul problema dell'automazione del lavoro e via discorrendo. E quindi ecco le chiedo se l'intelligenza artificiale è un nemico o un amico delle risorse umane, dell'HR transformation e come si evidenzia tutto questo poi nella pratica. Allora grazie per la domanda come dicono gli americani e anche dell'invito ringrazio le fonti Emanuele e Valentina per aver orchestrato questa tavola rotonda. Arrivando qui e poi ascoltando gli interventi mi sono detto mi piacerebbe come dire che ognuno di noi uscisse da questo evento diverso da come entrato perché normalmente negli eventi ognuno di noi porta quello che ha da dire e se ne va con quello che ha detto. Quindi se da qui nascono ulteriori domande è proprio come dire il canale per farle fluire. La trasformazione nell'ambito HR e nell'ambito del talento come dicono le colleghe prima è in atto e non è una cosa recente. Novembre 2022 lo citavi c'è stato questo boom soprattutto sulla parte di generative pre-training model quindi GPT. Noi in Glicon li usiamo da da un po' di tempo sapete che GPT è arrivata alla quarta versione GPT 4 ma già nel GPT 3 e GPT 2.5 si riusciva diciamo a generare del testo scritto in maniera diciamo intelligente dando pochi input al prompt alla macchina. Allora la tua domanda è molto ampia provo a dividerla in due elementi. Allora la prima a me piace parlare di alleanza con la tecnologia e anche di armonia tecnologica. Pensate un po' se io vi dico la parola armonia la prima cosa che mi viene in mente probabilmente non lo so io sono musicista oltre che essere ingegnere mi viene in mente l'armonia musicale. A qualcuno che non lo so piace cucinare l'armonia nei piatti a qualcuno l'armonia negli ambienti di lavoro però difficilmente associamo la parola armonia alla tecnologia. Ecco si è parlato tanto di democratizzazione delle AI quindi di democratizzarla fra in modo che sia nei flussi e nei processi come si diceva prima ma si parla ancora troppo poco di come renderla armonica. Che cosa voglio dire? Noi ci siamo fatti questa domanda in Glicon non tanto per dire mettiamo il tick in a box sul tema delle AI, delle reti neurali, del machine learning, del deep learning eccetera perché sono tutte parole bellissime ma poi devono essere utili ma cerchiamo di identificare quali possono essere dei casi d'uso dove le persone e nello specifico gli HR hanno delle attività ripetitive. Il primo pezzo è stato quello di generare contenuto quindi la job description c'è stato un HR che ha detto io ci metto tre giorni ogni volta per riscriverla o la copio da quelle prima e quindi abbiamo detto creiamo un prompt per la job description. Poi per il feedback perché la tecnologia deve rendere personale questa questa alleanza ma oggi posso dire che la cosa più interessante si ne parlava prima non è tanto generare contenuto con l'artificial intelligence ma analizzarlo. Fare in modo e poi magari ci lo tocchiamo questo tema fare in modo che la macchina faccia il meglio che la macchina può fare. L'essere umano non può analizzare grandi capacità di dati in poco tempo, la macchina sì. Quindi prendiamo il meglio da questa armonia, prendiamo il meglio dalle macchine, prendiamo il meglio dall'essere umano. Ecco no, lei mette sul tavolo insomma un obiettivo anche molto importante quello di creare una relazione appunto armonica tra il fattore tecnologico e il fattore umano. Un fattore tecnologico e qui torno eh dalla dottoressa Montemagno che deve avere naturalmente anche un riflesso pratico poi no? Eh sulla sulle attività e eh in particolar modo ecco il riflesso della misurazione perché eh abbiamo visto e poi avremo anche dei dati da condividere con con il nostro pubblico ecco che il misurare le competenze digitali, il misurare anche la propensione al cambiamento, la flessibilità di ogni lavoratore naturalmente ci mette ci permette di mappare poi l'organizzazione. Ma questo è solo un primo step perché ci deve essere poi ecco dalla consapevolezza data driven anche uno step successivo. Come si traduce ecco tutto questo? Sì insieme alla consapevolezza dobbiamo avere il coraggio dello step successivo. Eh uno step che deve anche essere capace di aiutare le persone a fare la differenza. Come si diceva prima nel nel due panel che ci hanno preceduto bisogna aiutare le persone a sviluppare eh consapevolezza, a orientarsi in quelli che sono gli obiettivi dell'organizzazione e allo stesso tempo attraverso questo contributo alimentare anche quel senso di appartenenza vero che fa sì che poi gli obiettivi delle organizzazioni vengano raggiunti. Grazie al contributo, grazie a quello che a me piace chiamare un esercizio di intelligenza collettiva. Eh nel primissimo hot panel una delle partecipanti diceva non c'è un leader che basta un leader o una leader iniziamo anche magari a declinarlo così aiutiamo anche le più giovani a identificarsi con dei percorsi. Fondamentalmente non c'è un individuo che può bastare a se stesso o che può essere sufficiente a raggiungere con le proprie competenze. Quindi abbiamo bisogno innanzitutto di avere non solo un modello di competenze, cosa eh assolutamente comune nelle nelle organizzazioni più strutturate, abbiamo bisogno anche di avere a disposizione una skill matrix operativa, quella che ci permette di capire se effettivamente rispetto ai desiderate effettivamente abbiamo quelle competenze, abbiamo quelle attitudini per poter incidere positivamente sui processi che richiamava prima eh Federica. Non basta disporre dei talenti anche perché la grande notizia lo sappiamo tutti nel momento in cui il talento capisce che non c'è spazio per contribuire e non c'è spazio per la propria crescita se ne va, trova altre strade, inizia a sfogliare le proposte di lavoro o addirittura ehm sempre più spesso cerca di mettere a punto dei progetti che diventano start up perché sappiamo perfettamente che molti talenti fuoriescono proprio come ha fatto Federica pensando a nuove progettualità. Quindi è importante eh mettere le basi per la skill matrix, è importante rispondere, utilizzare la Smartive Map come alcuni nostri partecipanti hanno fatto nella versione demo, significa ascoltare le proprie persone, permettere di esprimere e di avere anche un feedback rispetto a quelle che sono le competenze verticali per svolgere il proprio eh lavoro all'interno dell'organizzazione, significa anche prendere coscienza di quanto ci relazioniamo, quanto ci confrontiamo col cambiamento e quindi dobbiamo rispondere con dei giorni, dobbiamo rispondere con delle iniziative che non solo vanno a colmare eventuali gap di competenze ma soprattutto, ed è la cosa più importante, permettono collaborazione eh trasversale tra le funzioni, tra le persone, permettono comunicazione, permettono di mettere in in diciamo in circolo tutta quella conoscenza che a volte rimane negli angolini delle dei diversi silos aziendali. Quindi abbiamo bisogno di fare questo. Perché ecco a proposito eh di misurazione dei dati che ci arrivano dalla misurazione alcuni possono essere sorprendenti perché magari ecco si evidenziano delle dote, delle qualità, dei talenti eh di un lavoratore inespressi o che lui stesso non sapeva di possedere e quindi ecco magari quel lavoratore potrebbe rientrare in un altro team di lavoro o avere una funzione diciamo diversa all'interno della stessa organizzazione. Ecco quindi vi chiedo a partire sempre dalla dottoressa Montemagno se il concetto di flessibilità ormai lo dobbiamo applicare anche al ruolo che noi abbiamo nella nostra azienda. Flessibilità e agilità. C'è un blog, un sub stack che mi piace ogni tanto andare a frequentare il titolo ed è sono stata attirata dal titolo in realtà perché dice the future does not fit to the past containers. Quindi non possiamo pensare eh di progettare e di immaginare il futuro se continuiamo ad applicare quelli che l'autore chiama container eh nel vero senso della parola del passato e quindi non possiamo pensare di eh prepararci e far sì che la nostra organizzazione sia pronta eh ad agire per il futuro non nel futuro perché il tema è che noi oggi costruiamo gli obiettivi di domani non non è una questione di prepararci è una questione di agire di far sì che i nostri processi le nostre persone le nostre procedure siano in linea con e permettano abilitino questo tipo di trasformazione. Quindi essenzialmente abbiamo bisogno di guardare all'organizzazione come ad un organismo e quindi eh sì grazie alla misurazione ogni tanto scopriamo che le nostre persone indipendentemente dal proprio ruolo e anche indipendente dai nostri piani di formazione aziendali coltivano degli interessi o sviluppano delle capacità per questioni di esperienze personali per questioni anche semplicemente di curiosità. Allora abbiamo questo capitale nel capitale che non utilizziamo e che non mettiamo a appunto quanto quanto serve. Siamo un universo infinito possiamo dire di capacità di potenzialità di talento tanto che all'interno della stessa azienda possiamo ricoprire mansioni e ruoli differenti oppure intraprendere nel corso della nostra esistenza diverse carriere proprio perché abbiamo diversi talenti e diverse potenzialità. Ecco eh Federica un commento ulteriore sulla flessibilità applicata al concetto di talento. Allora diciamo che sono due componenti no? In questa in questa grande verità. Una è la persona il singolo e l'altra è il contesto in cui vive no? Da esseri umani eh abbiamo in tutta in tutte le nostre dimensioni questa duplice verità quindi lavorare come singoli su quelle che sono le nostre percezioni, le nostre credenze, il nostro modo di agire, il nostro mindset da un lato e lavorare sul contesto in un secondo luogo sono due cose che le organizzazioni devono fare per liberare flessibilità e agilità nel senso che non possiamo pensare che uno, due, tre, cinque per cento della nostra popolazione evolva senza che poi il contesto segua e eh viceversa non si può pensare di fare quel famoso change management no? Che spesso cioè strategie infinite, slide incredibili e poi però non si casca nell'andare a aiutare le persone ad accettare questo cambiamento o ad abbracciarlo meglio. Ehm in questo senso noi abbiamo sviluppato una una soluzione digitale che fa proprio questo che va a lavorare con la persona nel capire come funziona la proprio modo di decidere di affrontare eh la quotidianità partendo da facciamo un assessment di intelligenza emotiva quindi partendo in maniera diciamo empowering da quelli che sono e dei superpoteri che la persona già intasca no? Quali sono gli assi nella manica che tu magari non sai di avere che però ti aiuti possono aiutare a evolvere in quella direzione e dall'altra ti aiutiamo con persone con quindi coach esperti di comunicazione proprio a lavorare su di te sulla tua percezione. Dall'altra parte ti facciamo incontrare in maniera sistematica dei colleghi con cui stringere una relazione innanzitutto e abbattere quei famosi silos di cui spesso si parla a volte non si parla neanche però che non permettono quello scambio umano che poi ci permette di crescere di migliorare di imparare di conoscere l'organizzazione e anche di vedere cosa si può fare nell'organizzazione perché spesso uno soprattutto in aziende medio grandi non può neanche immaginarsi quanti tipi di lavoro può fare quanti tipi di competenze può imparare se non avendo un esempio davanti. Poi a questo tema si collega tantissimo anche appunto il tema della diversity and inclusion gender age e così via perché spesso oggi c'è un cap sì per le donne ma anche tantissimo per i giovani nel far vedere loro dare loro un'esperienza diretta per capire cosa possono far domani e più teniamo questo cap basso meno avremo un paese io mi diciamo mi batto per questa cosa della produttività soprattutto italiana che possa essere competitivo e possa essere up to date nella continuità insomma. Abbiamo detto che talento sarebbe stata un po' la parola chiave di questa tavola rotonda supportato appunto dal digitale e voglio chiedere ecco al dottor Rinaldi proprio siamo entrati no nella cosiddetta fase della talent intelligence ed è una fase che arriva dopo una successiva insomma serie di momenti abbiamo li abbiamo individuati un po' anzi li ha individuati lei in un suo articolo e mi sono segnata queste fasi anche perché in brevissimo tempo nell'arco di dieci anni ne abbiamo attraversate superate davvero tante abbiamo passato la gamification all'experience nel 2018 people analytics e ora appunto siamo proprio arrivati alla fase della talent intelligence ma questo nel concreto che cosa significa e quali sono ecco le strategie che supportano questa nuova fase del del mercato del contesto laborativo sì mentre ascoltavo pensavo questa frase che il talento è mobile cioè si diceva la donna è mobile famosissima opera ma il talento è mobile cioè il talento si muove il talento si muove come ci muoviamo noi consumatori e quindi avere intelligenza sul talento quindi non soltanto artificiale ma anche relazionale e è fondamentale oggi Gartner parla di questo fenomeno non so se alcuni di voi l'hanno intercettato della total experience si parlava prima di contesto effettivamente siamo darwiniani quindi diciamo char darwin già un po di anni fa aveva individuato questa questa cosa della relazione dell'essere umano dell'organismo come diceva prima nell'intervento in relazione al resto ecco che avere intelligenza sul talento significa per noi in glicon parlare di oro cioè fare in modo che possa venire fuori l'oro di ogni singola persona di ogni singolo essere umano in che modo mi piaceva molto prima l'intervento dove si parlava di leadership e di cura perché molto spesso si parla di un aspetto di una persona che che cosa sai fare questo è uno degli ambiti e l'ambito della competenza o mi piacerebbe parlare di conoscenza perché la competenza è qualcosa magari di finito la conoscenza ha un'attitudine a conoscere e ad esplorare l'altro ambito è quella della motivazione simon sinek dice perché fai le cose perché ti svegli e la mattina e hai lasciato questo mondo migliore di come l'hai trovato mi chiedo io tutte le diciamo le mattine e insomma è una grande domanda e poi la terza componente quella delle relazioni cioè fare in modo che nella cosiddetta talent intelligence ci sia una un'analisi una misurazione un approfondimento dell'essere umano pensato proprio a 360 gradi che cosa sai fare che cosa ti motiva a fare di più e come lavori meglio cioè quindi tutto l'ambito delle relazioni in un contesto dove ognuno di noi sì siamo individui quindi indivisibili ma siamo come dire connessi quindi un candidato una candidata un collega non mi piace chiamarli dipendenti perché mi dà l'idea di qualcuno che dipende da qualcosa pensare di dipendere dal lavoro prima c'era qui Paolo Iacci non so se ancora qui ne parlavamo anche con Galimberti dipendere dal lavoro non è una grandissima metafora però che sia un candidato un collega appunto che lavora in un'organizzazione è fondamentale pensarlo come in modo totale perché questa persona poi scriverà sul web dell'esperienza di candidatura che ha avuto scriverà di come viene trattato in azienda quindi avere attenzione a questi temi significa aver cura come si diceva prima ma soprattutto fare un ascolto continuo perché se ascolto una persona solo in un momento in cui fanno candidatura fa l'onboarding fa un processo mi perdo tutta la sua diciamo total experience chiarissimo ecco io vorrei tornare un attimo su un concetto che ha espresso proprio nel suo intervento dottor Rinaldi cioè sul fatto che non sappiamo esattamente che cosa possiamo dare all'organizzazione in cui siamo inseriti se non conosciamo noi stessi alla fin fine se non sappiamo ecco quale potenziale ci caratterizza qual è qual è il talento proprio che è iscritto nei nostri geni e che dobbiamo cercare di esprimere ogni giorno e ecco per cercare di capire un pochettino più di noi no di come siamo fatti di quale potenzialità abbiamo ma anche di quale invece mancanze perché sono anche le mancanze che ci caratterizzano abbiamo detto che la misurazione ci viene incontro ci fa scoprire un po' meglio il nostro profilo e dottoressa montemaglio le volevo chiedere proprio ecco visto che abbiamo chiesto ai nostri partecipanti di misurarsi qualche evidenza numerica proprio sulla due concetti fondamentalmente l'apertura al cambiamento e le competenze digitali io innanzitutto ecco le devo confessare l'ho fatto anch'io è il test e sono stata sorpresa diciamo un pochino negativamente per quanto riguarda le competenze digitali lì c'è un po' di resistenza al cambiamento forse sarà la cultura classica che mi impedisce ecco di avvicinarmi al mondo digitale con una totale apertura e però volevo sapere ovviamente oltre alla scheda personale quali sono i numeri che sono emersi dalla rilevazione visto che ha interessato anche il pubblico qui in sala sì abbiamo lanciato l'idea di far testare quello che è lo strumento smartive map e abbiamo avuto 26 risposte tra cui la sua però voglio subito sincerarla si è prestato a questo esperimento che era pensato per un pubblico decisamente charra quindi con una conoscenza dell'area e delle dinamiche più corporate quindi probabilmente c'erano alcune domande sulle competenze digitali che potevano sfuggire a quella che è la sua specializzazione e magari è questo un po' il motivo del risultato che l'ha sorpresa negativamente quindi in generale come dicevamo 26 risposte tra queste 26 risposte abbiamo una maggioranza di profili e lai la smartive map dà luogo a cinque profilazioni tenendo presente quello che è l'incrocio tra la dimensione della competenza e la dimensione dell'openness to change dell'apertura al cambiamento la dimensione delle competenze giusto per darvi un'idea a cosa avete risposto è basata sul modello delle competenze a livello europeo il digcomp adattato ad uso corporate e quindi le domande poste vengono sviluppate anche in collaborazione con quelli che sono i manager più illuminati che hanno già affrontato nel loro percorso alcune sfide alcune trasformazioni e invece l'apertura è basata su quella che è la letteratura scientifica quindi gli alleati che è il profilo che prevale tra i rispondenti l'81% di voi è alleato significa che ha apertura, ha uno slancio e forse l'essere qui a parlare di HR transformation lo conferma dall'altra però ha bisogno di rodare quelle che sono le competenze richieste oggi a chi fa risorsa a chi si occupa di persone, sono competenze differenti da quelle che semplicemente venivano chieste qualche anno fa parliamo dei dati, della confidenza, della familiarità, non solo con il dato ma anche con gli strumenti menzionati da Federica, da Carlo, da me oggi quindi 81% di alleati, poi abbiamo un 4% di believer quindi vuol dire che abbiamo tra noi chi già questa trasformazione l'ha iniziata ad abbracciare e quindi ha affinato quelle che sono delle competenze digitali e anche esercitato e quindi ha allenato la capacità di cambiare e trasformare all'interno della trasformazione abbiamo anche qualche resistor perché tra le risposte abbiamo una piccola percentuale di chi insomma questa trasformazione ancora non la vede di buon occhio e quindi tende in qualche maniera a dire aspetto un attimo vediamo che cosa succede quindi questi sono i dati che abbiamo raccolto ovviamente un campione limitato e anche diciamo ciò che abbiamo fornito ai nostri partecipanti era un qualcosa ad hoc per un pubblico HR ecco ma questo mi consente uno spunto ulteriore perché è vero che ci sono tutti gli strumenti ormai a disposizione per conoscerci e migliorare però è vero che dall'altra parte dobbiamo metterci del nostro perché se non c'è un'apertura al cambiamento, alla trasformazione, ad abbracciare quello che sarà il mondo del lavoro nel futuro non c'è tecnologia, non c'è digitale, non c'è intelligenza artificiale che tenga e quindi ecco una domanda questa che rivolgo a tutti e tre i miei speaker un consiglio che dareste ecco per essere un miglior human at work utilizzo questa espressione tratta dall'inglese visto che non dobbiamo parlare di dipendenti ma di persone all'interno di un contesto lavorativo dottor Rinaldi inizio da lei Allora il consiglio a chi lo diamo? A noi stessi? A chiunque diciamo è nell'organizzazione? O come dire a chi ci abbracciano? Diciamo a chi incontriamo? A chi è lo human networker? A noi stessi A noi stessi esatto Allora mi piace molto questa domanda perché si collega al tema della relazione cioè noi siamo esseri umani e dobbiamo essere in relazione Io il consiglio che do a me stesso e al mio bambino interiore è quello di avere una sempre diciamo sviluppare ecco di nutrire una capacità all'ascolto all'ascolto relazionale cioè che non basta essere attivi nell'ascolto ma nella relazione c'è un ambito di azione c'è un ambito di essere appunto come dire in collegamento ma fare qualcosa in questo collegamento quindi se la devo sintetizzare in una frase è sviluppare e nutrire quindi come se fosse un semo, una piantina l'intervento di prima si diceva che se c'è spazio qualcosa si sviluppa altrimenti se è tutto compresso è difficile sviluppare la nostra piantina interiore ecco che la relazione mi permette di migliorarmi di essere diciamo come dire pronto e pronta diciamo nel momento in cui questa cosa qui si estende a tutto l'universo ad abbracciare il cambiamento Dottoressa Montemagno anche da parte sua un consiglio magari non solo sulla base dei risultati che uno ottiene bene io ho questo tipo di profilazione e adesso che cosa posso fare in più? Allora se guardiamo la profilazione sicuramente è quello di avere il coraggio di ammettere che c'è qualcosa che ci sta sfuggendo ed è una cosa veramente rara quindi sulla base e sulla scorta della profilazione mi sento di dire dobbiamo avere il coraggio di ammettere che c'è qualcosa che manca nelle nostre organizzazioni non è una questione personale è una questione semplicemente di tempi stiamo vivendo un cambiamento continuo e mentre ne parliamo là fuori qualcosa sta già cambiando quindi dobbiamo prenderlo come un dato della nostra realtà del nostro tempo e interpretarlo quindi coraggio e dall'altra poi avviare dei piloti avviare dei progetti in cui creare dei campi di allenamento che significa anche capire qual è la ricetta che più fa per la nostra organizzazione io dico sempre non esiste una formula perfetta altrimenti insomma saremo lì a ricercarla e ad attirare investitori su questa formula non è così quindi sulla scorta della profilazione mi sento di dare questo consiglio invece a livello personale più che un consiglio tendo a condividere un proposito che è quello di sentirsi parte di un ecosistema tutti noi abbiamo un ecosistema di partecipazione e un ecosistema di appartenenza allora se tutti i giorni ci ricordassimo di più di essere parte di questo ecosistema allora potremmo essere più presenti più presenti a noi stessi e più presenti all'interno delle organizzazioni allora sì che lì riusciremmo a come dire a rilasciare quella capacità a rilasciare quel contributo di cui abbiamo bisogno come Federica la penso anche io abbiamo un gran bisogno di crescere come paese come sistema abbiamo bisogno di crescere per far sì veramente che quella che viene considerata la culla del diritto diventi la culla della democrazia compiuta senza conoscenza senza consapevolezza non andiamo da nessuna parte Federica io costituisco su questi due interventi dicendo che secondo me che poi la nostra missione noi siamo una startup di un anno di vita quindi considerate che la vita delle founder è molto diciamo fa molto il DNA di quello che è Kintalenz oggi ho fatto un TEDx sul concetto di zoom out e credo che partendo dal contesto dalle situazioni dalle priorità ci sia spesso la fatica di guardare da fuori la situazione vedere i dati e prendere davvero una decisione e ci sono diversi modi per hackerare scusate sono le mie parole per hackerare questo sistema sicuramente fare dei piloti è un ottimo è un ottimo modo ma anche allenarsi a appunto guardare da un punto di vista diverso la situazione quello che noi abbiamo provato a mettere a terra è stato proprio un modo di fare zoom out in modo più automatico partendo da quello che Kahneman ci ha insegnato noi siamo abbiamo un sistema uno un sistema due abbiamo degli incentivi e dei disincentivi oggi essere più in controllo di dove viviamo chi siamo cosa vediamo su Instagram e cosa scrolliamo e più capaci di dare una direzione alle nostre scelte professionali è la base cioè come alimentiamo le nostre conoscenze il nostro cervello come alimentiamo le nostre persone al lavoro quali sono i processi che costruiamo per fare questo è fondamentale quindi questa tecnica di guardare da fuori la situazione fermarsi un momento in più consapevoli del fatto che sia molto faticoso è secondo me un buon consiglio benissimo ce li siamo segnati tutti e tre così arricchiamo anche i consigli e gli input che ci possono servire poi per la nostra vita professionale un ultimo commento da parte vostra su una frase che ho trovato molto interessante l'ha pronunciata uno scienziato americano proprio sull'intelligenza artificiale e la battaglia futura che ci aspetta ha detto che la vera guerra la vera battaglia la vera sfida del futuro non sarà tra uomo e macchina ma tra chi sa usare le macchine e chi no ecco un ultimo commento a partire naturalmente da Carlo Rinaldi open to meraviglia allora dico questo perché mi ha stupito molto una vignetta a proposito di questo che magari anche voi avete intercettato dove si vedono gli esseri umani che sono in burnout nei telefoni e le macchine che disegnano i fiorellini colorati non so se l'avete presente se no poi dopo proviamo a recuperarla questa immagine in qualche modo sta descrivendo una realtà nel senso che OpenAI azienda diciamo che appunto ha lanciato questo prompt del chat GPT e altre cose diciamo a livello di large language model in qualche modo secondo me ha fatto succedere una cosa una scintilla ha reso mainstream un tema che era per gli addetti ai lavori io nel 2005 ho fatto una pubblicazione sul tema del riconoscimento delle emozioni dal segnale vocali quindi stiamo parlando di 20 anni fa le retine orali erano un fatto ma erano di nicchia io sono ingegnere nell'ingegneria si parlava solo di questo ecco è bellissima la frase che hai detto è bellissima l'immagine che abbiamo oggi non ci sono più scuse per non provare per non conoscere provare e anche sbagliare quando dicevo prima il talento è mobile voglio dire questo secondo me non è nemmeno sbagliato in sé che qualcuno in un'azienda si muova si guardi alla finestra si affacci a nuove opportunità costruisca un'azienda come abbiamo visto oggi perché il digitale in questo senso ha creato proprio un filo rosso continuo con quella che è la conoscenza dico una banalità tutto sta appunto nel come la si usa poi ma se non la si prova non possiamo dire come la si usa quindi dico un altro consiglio provare sempre cioè esce qualcosa provare 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 per conoscere mid journey ci permette di costruire immagini eccetera provarlo e anche lì fare la tara perché l'essere umano riesce a fare questo riesce ad avere quell'intelligenza come dire relazionale come dicevo prima che in qualche modo riesce a discernere se si fa le giuste domande benissimo un flash anche da parte di Francesca e di Federica il rapporto uomo macchina nel futuro diventerà il tema centrale secondo me dovremmo far diventare centrale il tema sull'umanità aumentata non dell'intelligenza artificiale non delle realtà aumentate dobbiamo mettere al centro ciò che che ci caratterizza il pensare generare idee immaginare non ci sarà mai nessuna macchina per quanto è voluta che possa sostituire queste funzioni quindi dobbiamo ripensare quello che è il nostro ruolo e come vogliamo utilizzare tutta questa tecnologia disponibile ne abbiamo veramente di ogni tipo abbiamo l'imbarazzo della scelta e probabilmente tra qualche anno aumenterà ulteriormente quindi dobbiamo in realtà concentrarci su ciò che noi esseri umani vogliamo vogliamo essere rispetto a tutta questa tecnologia Federica allora sarà molto impopolare io credo che a un certo punto potremmo trovarci a chiederci no non dobbiamo più lavorare per produrre cosa facciamo perché secondo me questa wave di GPT GPT4 sta cioè nessuno al mondo tantomeno in Silicon Valley dove non so se avete avuto modo di leggere un po' di articoli su New York Times e così via ha davvero la visione di cosa sarà questa ondata tecnologica in quest'ottica secondo me c'è un tema di come possiamo costruire una conoscenza collettiva tecnica e umana attorno a questa grandissima immensa rivoluzione perché oggi qui se ne è parlato penso adesso per la prima volta di GPT io non so quanti di voi abbiano usato OpenAI per provare a disegnare con Wall-E un'immagine o abbiano chiesto qualcosa diciamo direttamente alla fonte è una rivoluzione straordinaria non è detto non è scontato che sia così positiva per renderla positiva c'è bisogno della consapevolezza e della conoscenza di ognuno di noi di nuovo sarà molto faticoso fare questo questo cambiamento e abbracciare questa questa rivoluzione facendo in modo che possa essere un plus possa aiutarci a vivere vite migliori più sane più sostenibili piuttosto che insomma darci situazioni più faticose soprattutto per la grande diciamo la grande popolazione cioè per il 95% delle persone che oggi non sono qui a ragionare come noi con la fortuna di avere questo tempo di ragionare su queste tematiche ma magari la assorbiranno da decisioni che possiamo prendere noi quindi secondo me trovarci ragionare su questi temi provare la tecnologia sono cose necessarie oggi certo e ritorniamo direi al tema dell'armonia armonia tra fattore umano e tecnologico l'abbiamo aperta ecco questa tavola rotonda con questa parola direi che è anche forse il termine più adatto per chiuderla io ringrazio gli speaker di questa tavola rotonda Francesca Maria Montemagno founder e CEO di Smartive Carlo Rinaldi Siamo di Glicon e Federica Pasini CEO e co-founder di Hacking Talents Società Benefit grazie davvero per essere stati con noi Grazie a tutti Grazie a tutti.